eccoci qua vedo la giaci 27 settembre lunedì siamo nei guai questo è uno è il primo dopo mezz'ora di bosco il bosco è vivo amaninti russule vesce di tutti i tipi sembra la situazione sembra buona in teoria temperatura umidità speriamo dai sicuro che sia lui certo che è lui si si è proprio lui lui è lui certo che è lui faccia rotto e fargli una foto da mandare all'endrio ma non ci capiamo più niente qua condizioni sono ottime però la siccità di aver fatto dei danni incommensurabili perché non è possibile che facciano così fatica solo loro è solo loro fan fatica bello bellissimo fresco andiamo a mangiare no leggermente si brava giaci dai uno anche te qui nel muschio piccoletto ma fresco bene dai è proprio piccoletto disastro disastro vabbè è durissimo certo che chi è passato non averlo visto perché perché dici che siccome è lunedì allora no talmente è mia che all'edito sarà difficile vabbè tira fuori il primo che bello fantastico che bianchezza felicità dai brava giaci fatti bello adesso puliamo il suo fratello qua uh che gambone anche lui bello andava giù lungo bellissimo guardami cosa mi ha contetta ecco ho mangiato un po' la testa eh porta veramente lì sotto così ha qualcosa o la bianca adesso andiamo a guardare dai guarda qui che belli armi l'aria armi l'aria piaci ti do le botte no no augura che bello sì sì no uno di più di uno che bello cacchio urcozio fantastico eh ma sta roba mi fa venire voglia di camminare sì sì abbiamo il tempo di camminare che miseria di andare dappertutto vai vai gratina brava giaci bello anche questo bella gamba leggermente rosicchiato ma oh che minciampo molto piacere mamma che gambota hai visto lì sotto cosa c'è che non bravo Edo bravo c'è eh aspettami che raccolgo questo ma che spettacolo lo vedeva anche un cieco eh leggermente maturo ma trovarne muscarie non mancano bellissimo bellissimo giaci è bellissimo sì sai cosa vuol dire bellissimo fantastico super bello bellissimi bravo da Lorenzo bravo 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 sì è un po' un po' verde sì siamo arrivati tardi qua si va che gambo a dove va oppa è un po' è un po' anziano è un po' anziano ma si salva qualcosa boh certo che bello ma che bello anche questo giaci molto bello aspetta che andiamo a vedere quello lì cacchio pensa che non l'avevo visto bisogna andare lì a quel pino grande lì dove c'era il tronco marcio infatti un po' più in là giaci ma che bello sanissimo c'è una manite vecchia marcia e un porcinello piccolino mezzo disgraziato che è sicuro come no niente no niente brava giaci ore 11 dopo un'ora di nulla questo è proprio bello baciato dal sole qua bellissimo freschissimo ma come si fa a dire che è finita guarda che c'è sui richiami certo come si fa a dire che è finita dai bellissimo bello ci abbiamo ancora un'ora un'ora e mezza di strada troveremo ancora qualcosa ma si spera ma si spera eh il nano qua mangiato brava giaci bello bellissimo giaci vuoi anche questo no questo no non lo voglio ma pensa a te se doveva crescere vicino a sto cacchi di sanguanella giaci eh tentativo a 1600-1700 già mezz'ora che siamo dentro visto che era presto abbiamo detto questo c'è ecco zio è ancorato non dà ma l'osso no non è che è ancorato qua anche culone è un culone anche c'è dentro la lumaca sotto il cappello va bene dai mi sembra anche bello mi sembra anche bello nella paura di non trovare niente è bello sì freschissimo pancione dai già ci siamo alla macchina sì allora ci sono le case dei puffi te le acrapa d'inzone certo e la testa in giù c'è la casa dei puffi ha detto dai facciamo un video finale a salutare tutti arriviamo qua guarda cosa c'è incredibile un porcino cappottato va finché lo rompo no va va che roba assurda va bene dai fai ciao ciao con la manina e speriamo che che prosegue che sia un segnale buono questa questa scampagnata qua insomma dai il bosco è vivo speriamo